2 1 vai dentro sai che forse non ho mai giocato o vedo slab slab e roba varia si 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 non ho preso kit però cosa interessa pigliare kit no però non arriverà pagamento shop on armas o spada in diamante io prendo tutto ma non mi serve niente allora la pelle è uguale all'oro vero no 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 ah quindi allora metto scarpini d'oro con protezione 2 le uova le uso frecce ok io faccio l'altra io c'ho 12 di erba 24 di legno si smuco un po' di roba ecco soprattutto il pantalone aspetta che c'è dietro ma è meglio pelle protetto o oro i pantaloni? ti vedo dati? eh no vabbè chiedi hai caduto in pietra? ehm ehm andiamo in centro ok copri si eh tanto non ho frecce vabbè però dimmi se non lo stai guardando guarda allora a parte che non mi ha caricato il ponte cioè non lo vedo ok 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 siamo salvi oh 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 ci colpisco non ci colpisco altri due altri due altri due che fanno team che stanno teamando che stanno teamando dietro mi sa si eh si aspetta qui aspetta qui aspetta qui aspetta qui aspetta qui oddio ok 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 ci sono quattro devi piazzarli e poi scapare questi due vabbè a sto punto stanno facendo un ponte non so perché verso di noi no è in diagonale, è storto aspetta un secondo che faccio l'arco ok ok ho buttato nella cesta anche madgar si sono tanti lo sai no devi venire di qua eh no ah ok sta attento che sia il board no no oh l'avevo due volte aspetta aspetta vediamo lui non dovrebbe avere frecce perché ci sta guardando senza far niente quello si trova quello si trova oh non bravo 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 ma stava ti servono blocchi ok ho chiuso wow ormai grazie cosa è successo? cosa? a chi? a te a te perché? hai utilizzato il microfono? no è la mia gamba sul tavolo l'ho l'ho è al centro quello cioè al centro si è al centro ok ok si lo trovo il centro io pregreso la broca che non aveva frecce è il terreno non va bene tutto è fermo via così veramente sto facendo un ponte con i bordi io ho due stati io faccio il ponte io faccio il ponte io faccio il ponte io faccio il ponte attento Ma quelli non erano intimi Sono morti Non ci sono Ah quindi erano Si erano separati Si No Che Eh lo so E allora Vedi che sei scemo In realtà non mi erano un po' più sbaglio Eri dall'estante come credo Ho detto gay Ma dove è tocando te? Si va dietro te Ok Buone Questa Questa Due Uno Uno Dentro Cosa stai mangiando come non ti mangiare niente? Biscotti Basta notte se è più bello di quello con i Lucky Wars Con i Lucky Wars Ah si Lucky Wars si Non vedete Si è niente In più io Ho messo scuro eh Ho una spada che fa 7.25 Ti serve? Eh si io ho quella in diamante Che fa solo 7 Eh no scusate io ho una spada che fa 7.5 7.25 Eh vabbè La spada in diamante è 7 Quindi è di più Quella in attrazione E' mega mega Veramente Eh si Easy busy Oh Fare tutte e due gli H Oh no no Aspetta l'ho che va dentro Questo che stanno arrivando Ghiacchia E' più Ok 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 E' freddo E' freddo freddo Buono Abbasso un po' C'ho l'arco e non le frecce Ne ho 16 Ok Cioè prima c'avevo Ah no era un altro server Che stupido Mille frecce Adesso niente Ok Deve sei Sto facendo Certo qualcuno Ops E' sei insieme Allora Ah sei te Ti stai dando fuoco Non io Lui a te No io Io sono lui Ma se avessi le frecce L'avrei buttato Ecco E' morto E' caduto Che Che scemo Bidone 00 Ti sto vedendo Cioè ti ho visto Ah ok La luminosità Faccio il ponte O lo fai te Io si Vado ancora che non mi carichi I I blocchi che piazzi Ti giuro Ti sto vedendo camminare nel vuoto Ecco Ok ok Eh Lagga un pochino Ok no Ecco Ecco Devo unirli Hai Io so Ti Aspetta Te Tre Tre cordicelle Te 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 Io Ti ho dato Tre cordicelle Vuoi Boh Ok Ok Se hai delle piume io ho una flint No 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 Non così Quando è in bilico In bilico Tra Non si può soffrire Eh lo so Hai un bicone Scusa Eh sì Pietra Ti servono blocchi Eh un po' Eh no io non ne ho tanti Io non ne ho tanti Allora siamo io Te Peppe Spagno E Web Peppe Spagno Peppe Spagno Non c'era spazio per scrivere lo Uno sta bombardando qualcosa Sai che non senti Non senti Non sento Minecraft Non sento Minecraft Noo WebQ è stato Dove Eh non lo so A parte che è esploso qualcosa No Ti giuro Ah ma è sopra di me Ecco cosa faceva Era nostra isola Ok Ha messo la lava ma io se no scappa più un'altra isola Lo sai Hai fatto bene Sulla mia vecchia Praticamente Esatto No Sulla vecchia che hai invaso Cioè quella che La prima che hai attaccato là Oh Roba interessante Elmo indiomante Oh Aspetta un secondo te Oh salutala 4 TNT 6 e mezzo 6 e mezzo 6 e mezzo Bo Non senti la web Io sono contro WebQ Quello che era sopra di noi Oddio Sta facendo il ponte Continuo a scappare Vediamo cosa succede Scusa Eh Scusa Per essere innovativo Superanale Potremmo fare un giudistagare io No Sono caduto Lo So Seconda Solo Y Seconda Y Seconda